Checco, dove siamo? No, io ti ringrazio. Allora, in questo momento siamo sempre sulla costa californiana, siamo in un'università che forse nell'NCWA non ha mai detto davvero la sua, ma è molto evocativa. Siamo a Pepperdine, appunto degli Atenei Los Angelini, in questo momento siamo all'ingresso dell'università, come vedete tutti gli edifici di Pepperdine, la giornata continua ad essere abbastanza foggy e nuvolosa, però siamo molto felici perché comunque siamo venuti in questo spazio, in questo spazio di cultura, a dire il vero conservatrice. Sì, infatti qui è l'università dei Repubblicani, che ecco, guarda lì, che po' di croce c'hanno lì, ora dimmi te. Esatto, noi comunque... Come si fa? Giù. Noi comunque per non essere da meno andremo sia a Pepperdine, che è appunto l'università della più conservatrice, il pozzo più conservatore, sia poi anche a UCLA. E passiamo ad ieri a USC. Ieri sono andati a USC, continua il nostro giro. Checco, ma come mai c'è il cicliumaro addosso? Dov'è? Dove? C'è il cicliumaro addosso! Oddio, no! No! Come mai? C'hai la sciarpa del Livorno, Checco! Sei una merda, guarda, non la butto in terra proprio perché è tua. Ma come? C'è il cicliumaro addosso, Checco! Non l'hanno visto che mi ha invitato quello. Sei una merda, uomo, ragazzi. Non l'hanno visto che mi ha invitato quello. Cazzo sei una merda, sei. Non l'hanno visto che mi ha invitato quello. Ma cosa si fa? Le foto e la telecamera? Checco, rimettiti la sciarpa del Livorno. No, questo non me la metto. Checco, sono tutte col cicliumaro. Vabbè, comunque io ho fatto, cioè, c'è una foto qui che veramente è la foto del, della, della mia, del mio essere qua. È bellissima. Riprendiamola con la telecamera. È bellissima questa foto. Cazzo che foto mai fatto, grazie. Mamma mia.